Ciao a tutti amici di SmartphoneLab.it, benvenuti all'unboxing di LG L70 Ok, vediamo la scatola, sulla parte frontale troviamo il dispositivo riprodotto, la scritta L70 LG e il marchio NOC Code Vediamo sul lato destro abbiamo ancora la scritta LG e il logo L70 Sul retro troviamo appunto L70, la dimensione dello schermo che è da 4,5 pollici VGA La batteria che è da 2100 mAh, una fotocamera da 5 megapixel e ovviamente troviamo Android E' presente il NOC Code, Bluetooth, Wi-Fi e Voice HD Apriamo la scatola e in primis troviamo il dispositivo che per ora mettiamo da parte Alziamo questa linguetta e troviamo le cuffie Il cavo USB, micro USB L'adattatore da muro che adesso vediamo subito Che è da 0,85 Ampere E infine, oltre alla batteria da 2100 mAh, ora il manuale di istruzioni e la garanzia Scusate ho dato un tocco alla videocamera Apriamo il dispositivo per metterci un attimo la batteria Abbastanza difficile perché è molto duro Ok Tiriamo fuori la batteria Ecco qua Accendiamo il dispositivo Intanto togliamo la pellicola di protezione Questo è un device di bassa media categoria Lo possiamo trovare ad un prezzo di 200€ Oggi il nostro unboxing e a breve, parliamo di una settimana barra 2 La nostra recensione Da Elio Re Neri per SmartphoneLab.it direi che è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti